e voilà il nostro barman che ci sta preparando che cosa questo qua invece un negroni con i ginn campani e vermi rosso ragazzi dove siamo al circolo dei lettori irema in sottofondo con losing my religion venite qui per presentazioni di libri ma tanto tanto altro come questo buon cocktail ragazzi lo assaggio in anteprima semplicemente magnifico un negroni super bilanciato io sono un intenditore un abbraccio grande mettete un like e iscrivetevi al mio canale youtube giovanni saldicio tutti alla prossima giambo